Dobbiamo andare d'accordo! Una mignotta, una madrina e una portagliella. Ma di che parlate voi tre, di che? Da Vincenzo? Da Vincenzo? Da un uomo non lo troverò mai. Con questa momea che porto Iella. Ho paura che Rocco mi faccia le corna. Lui ti insulta, ti tratta male? No. Ti fa le corna sicuro, cento per cento. Ispettore Nico Malachia. Da quanto tempo Olivia è amica di Gilda e Crocetta? Prima di tutto... A famiglia. Ha mai visto dei soldi strani? Oppure delle armi? Dov'è suo marito? Voi tre insieme? Che ci fate? Siamo amiche. Io ti prendo il colno! Perché ti fai la maschera alle quattro di mattina? Ho notato che sparare mi serve alla bella. E noi capisco, piaceva ti sapere all'un forno che so個人 costo. E me